Siamo a sette giorni dal Summer Food Festival, evento enogastronomico patrocinato dal Comune di Garoginio e dal Consorzio di Gestione della Riserva Autorea dello Stato di Torre 200. Il Summer Food Festival ha la sua prima edizione di un percorso gastronomico con 15 produttori, 15 assaggi, presenti influencer di rilevanza nazionale come Simone Puggiati, Nicola Di Fino, la Giacoma e Angela Maci. Innanzitutto vorrei ringraziare da parte di tutta l'amministrazione comunale di Garoginio e da parte del sindaco Carmine Brandi l'organizzazione del Summer Food Festival. Lo scopo e la motivazione che ci hanno spinguto ad accettare questo evento e promuoverlo è sicuramente un connubio con quelle che sono le eccezionalità del nostro territorio. Noi come Torre Coceto siamo estremamente felici da Presidente e da tutta lo staff di Torre Coceto. Questa iniziativa non poteva che sposarla. Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare nel nostro territorio un evento così di spicco come il Summer Food Festival che unisce agricoltura di qualità, turismo e promozione del territorio. Noi abbiamo l'appuntamento 28, 29 e 30 luglio nel centro storico del Comune di Garoginio Summer Food Festival.